Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Ma c'erano delle cose che magari già ai tempi non mi convincevano e ora l'ho iniziato a giocare così per scommessa perché io sono alla costante ricerca di un bel gioco di ruolo con un bel senso di progressione dopo aver finito tutti i grandi classici quali magari un Mass Effect o parliamo di giochi di ruolo invece quelli più action in The Witcher 3. Io cercavo qualcosa in cui potermi dedicare, dico mi godo quell'una o due ore che ho, vado avanti, però sono tutti abbastanza scialbi quelli che si trovano in giro, almeno non riesco a farmi di piacere. Ho ricominciato Elix 2, dopo averlo giocato 4, 5, 6 ore ho deciso di farci un video. Perché? Perché in live io percepivo, poi magari non ve l'ho trasmesso appieno, quel senso di gameplay e soprattutto movimenti a livello tecnico molto molto imprecisi. Nel senso che dovete proprio puntare l'oggetto per poterlo luttare e così via. In realtà, questo video serve a questo, vi smentisco questa cosa. È vero, bisogna imparare un attimino come gira il gioco, come gira l'interazione con gli oggetti, ma il gioco è assolutamente godibilissimo. E c'è veramente tanto, tanto da progredire all'interno del gioco, tanto che ovviamente la mappa è immensa, le zone sono tante, le fazioni sono tante e nulla, nulla davvero vi mette fretta. Infatti io me lo sto esplorando pian piano, sto conoscendo le varie fazioni. Il gioco è dei Piranha Bytes, quindi se avete giocato un Gothic. All'inizio magari avevo detto che il gioco è rimasto vecchio stile, è vero, ma graficamente è veramente carino. Non so se adesso lo abbiano aggiornato tanto, è giocabile anche in DirectX 12, ma a me dà qualche problemino. Lo gioco in 11, ma a livello di effetti di luce è veramente eccezionale. Il gioco è vecchio stile, è legnoso in certi aspetti, il movimento ci dovete proprio entrare in confidenza, ma con questo video voglio chiarire anche questo aspetto. Si entra in confidenza con questo sistema che all'inizio è iper ostico? La mia risposta è sì. E questa è la cosa più importante da dire forse in questo video, perché voglio rassicurarvi che il gioco è godibile anche così. Ovvio, spesso magari vi perderete qualche oggettino che è lì e dovete proprio puntare e guardarlo per poterlo raccogliere. Ma è anche questo il bello del gioco, del trovare l'oggetto magari nascosto sotto la pila di altri oggetti. E da dire ce ne sarebbe veramente tantissimo. Vi voglio far vedere alcune location. È il classico gioco dove potete andare, camminare in giro, esplorare, scoprire cose. Ma all'inizio sapete bene che, come in tutti i giochi di Piranha Bytes, quindi vedete la serie di Risen, dei Gothic e così via, anche lo stesso Elix 1, era veramente tosto all'inizio. Nel senso che ovunque io vada, ok, ho dei mostri che posso battere con il mio tubo di metallo. Ma appena mi sposto un po', appena trovo un nemico diverso dai soliti 2-3 che incontro all'inizio, hanno un teschio sulla testa. Significa che questi qui mi fanno il paiolo a strisce. Quindi, vedete, adesso ho trovato altre cose. Quindi c'è una voglia di progressione, ma senza farmi soverchiare dalla storia. La storia è il seguito di Elix 1, che personalmente non ho finito, ma che in sintesi vede noi come gli eroi del mondo, ma dimenticato, caduto nell'oblio, odiato da tante fazioni che magari ci sono ancora, magari caduto in disgrazia proprio per colpa nostra. Ma ci sono questi, diciamo, nemici interplanetari che stanno per arrivare qui e farci, appunto, un culo così. E quindi noi dobbiamo preparare e unire tutte le varie fazioni, o perlomeno sceglierne alcune. E ora, l'obiettivo, adesso vi vado al bastione così vi faccio vedere un'altra meccanica interessante. Questo è il bastione, è il nostro quartier generale, che nella live che avevo fatto avevo mancato clamorosamente, perché è una delle prime cose che, insomma, vi dicono dove vi dicono di andare. E qui possiamo andare a vedere tutti i personaggi magari con cui abbiamo fatto amicizia, vedere se ci approvano ancora in base alle nostre scelte, possiamo prenderli e portarli con noi nelle nostre avventure. L'ambiente, questo, diciamo, piccolo fortino, il bastione, chiamato, cambierà di aspetto anche in base alle scelte che faremo. Io adesso ho reclutato un tizio che servirà per costruire delle mure e poterci difendere dall'assalto di questi nemici planetari, interplanetari, che assalteranno il mondo. E qui avremo tutti i tavoli da crafting. Il bello di questo gioco è, appunto, dovremmo andare a conoscere tutte le fazioni e vedere a pelle quali ci piacciono, quali vogliamo unirci. Ci sono i chierici, ci sono i berserker, ci sono le albere, che sono quelli che c'erano anche nell'Elex 1, che sono degli individui, un popolo ipertecnologico, che usano, appunto, l'Elex, che è una sostanza per rendersi più potenti e hanno oggetti tecnologici. C'è veramente di tutto. E pensate, ad esempio, qua ci sono dei malavitosi, insomma. Qua ci sono i fuorilegge, qua ci sono le albere, in mezzo alla neve. Ho dovuto raggiungerle lì e sbloccare il teletrasporto in modo da poterci tornare. Poi abbiamo questi tizi qui, dove eravamo il forte, dove eravamo prima, che sono più filo, diciamo, militari mediovali. E da scoprire ce ne sono tante. E pensate che questo è un gioco che va giocato con calma, senza la fretta di doverlo finire per fare un altro titolo. Questo lo dico sempre, l'ho detto anche per Kingdom Come Deliverance. Quindi noi vaghiamo per il mondo, esploriamo, raccogliamo oggetti. Tra l'altro, tra i vari cumuli di macerie, di rifiuti, si nascondono spesso delle armi anche leggendari. Infatti sul tubo, se non volete spoilerarvelo, non andatevelo a vedere, ma ci sono dei video che vi spiegano come ottenere, nelle prime due o tre ore di gioco, alcune interessanti armi epiche che potrete equipaggiare. Oppure, magari, deciderete di non guardarlo e di scoprirlo da sole. Comunque, la prima cosa che farete in gioco è esplorare e decidere di andare a vedere, che bene o male sono abbastanza chiari i punti dove si dovrà andare. Ad esempio qui so che c'è un teleport e non so cosa c'è, andrò a vedere. Alla peggio ci sono degli ostili, scappo. C'è il salvataggio rapido, il gioco salva, potete impostare da ogni minuto, ogni 60 minuti. Io ho messo ogni 3 minuti, ma lo sposterò anche per evitare di fare scelte sbagliate. E ho deciso di andare a esplorarli tutti e ognuno è caratterizzato veramente bene. Al che mi domando, questo gioco è passato tantissimo in sordina, anche le recensioni su Steam non sono granché, dico la verità. Ma non so perché poi si osanni, un titolo che tra l'altro finito mi è piaciuto tanto, Fallout 4, quando tecnicamente era quel che era pure lui, come i giochi Bethesda in generale, che sono bellissimi, ma qualche problemino ce l'hanno. E io non ci ho mai fatto caso né per quelli né per quelli di questo gioco, di questa serie, di questo sviluppatore Piranha Bytes. Però insomma, ci si fa l'abitudine ai vari, magari alla legnosità dell'ambiente, la domanda a cui ho già risposto prima, ve la ripeto, la risposta, sì, ci si abitua e ce lo si impara a godere a pieno. Adesso io sono entrato qui, posso scassinare un lucchetto. Ok. Qua bisogna capire. Ok. E abbiamo aperto il nostro baule, abbiamo scassinato. All'interno c'è un'arma a due mani, e c'è anche un cappuccio berserker, c'è una bottiglia di birra, una vecchia lampada, io prendo tutto. Spero che questa casa non sia di nessuno, no, non credo perché questo dovrebbe essere, dovrebbe essere una casa disabitata, come tutte le case qua intorno. Vedete, voi potete esplorare, adesso volevo cercare un nemico, vedete quello, è un nemico, io adesso posso equipaggiare, volendo anche l'arco. Io ho preso l'arco e posso attaccarlo. Non sono un granché con l'arco, lo attaccherò con questo. Potete rotolare. E le sfaccettature sono veramente infinite, perché non avete un vero e proprio limite ai livelli. so che tanta gente lo finisce il gioco a livello 60, ma ogni livello che fate, guadagnate dei punti a tributo da distribuire, questi punti a tributo vi servono per, diciamo, potervi acquistare dagli istruttori le abilità, ma anche il poter impugnare varie armi. E le abilità, questo ve l'avevo già detto, ma ve lo ripeto nel pieno entusiasmo di questo gioco, nel giocare a questo gioco, vanno dalle abilità di combattimento. Dovete avere però la persona che vi insegna questa specifica abilità, così come l'arco. Potete andare sulle granate, la sopravvivenza, quindi la possibilità di potenziare la vostra armatura, quindi proteggervi di più, avere punti salute extra. Io adesso ho preso questo per scassinare le serrature di livello facile, base. Potrò potenziarmi poi a questo. Abbiamo il crafting, quindi diventare degli armaioli, poter accraffattare le armi, incastonare le armi, creare le munizioni, creare le granate. Mi interessa molto, dopo vi faccio vedere il motivo. Abbiamo la chimica, la violazione, ci sono veramente un'infinità di cose che potete fare. Potete aumentare anche questo, questo è molto bello, perché vi dà più punti a tributo a ogni livello che fate. Ed è molto importante prenderla, ma in questo caso mi servirà un'astuzia di 25, vedete qua in basso, adesso vedo se riesco a puntarvelo qui, vedete ho 20 e 25 dovrei averlo e 500 monete neomilletarie, quindi ho fatto un po' di soldi. Le abilità da Berserker, quindi tutte le... c'è la magia appunto, la magia, la tecnologia, la spada, la cappa e la spada anche. Le abilità delle albe, quindi usare le magie delle albe e usare le abilità dei Morcon, che sono dei fuori legge, quindi qui viene da pensare che servirà un insegnante di quella frazione lì. Questi sono i fuori legge, ovviamente se vi farete odiare da una frazione non avrete queste abilità. I Chierici, mi piacciono molto, e poi abbiamo le abilità di Jetpack, oltre che il tavolino per poter equipaggiare e potenziare il nostro Jetpack. A livello di carburante, a livello di durata, velocità di volo, potremmo raggiungere posti altissimi una volta che avremo deciso di potenziare il nostro Jetpack al massimo. Ma vi dicevo, appunto, io ho preso il Gran Fulminatore, che questa è un'arma che spara le granate e mi piacerebbe domani poter produrre granate in modo da poter diventare forte. Il danno che fa quest'arma è 56, è abbastanza alto, ho anche un fucile a pompa danneggiato. Una volta che ne troverò un altro potrò, ne ho due, una volta che ne ho tre al tavolo posso crearne uno vero, funzionante, senza problemi. Ci sono poi le armi, il battacchio, la scure, sono tutte armi che richiedono un minimo di forza per poter essere maneggiate, forza che io al momento non ho. Ci sono mille cose da fare in base a come vogliamo. Vogliamo diventare dei maghi? Diventiamo dei maghi. Vogliamo diventare dei soldati con il fucile al plasma? Lo possiamo fare, possiamo diventare degli aceri. insomma, quello che vogliamo. Senza la fretta di dover completare tutto subito, tutto con calma. Io vi dico, ho fatto sei livelli, cosa che non avevo mai fatto in questo gioco. Assolutamente con calma. Nel senso che prendete, vi mettete lì, vedete tutte le quest che avete attive, ne fate una e cercate di capire. Io adesso ho lasciato in sospeso delle missioni, so esattamente cosa sono. Appena ho un attimo, un attimo di voglia, vado e me le faccio. Completandole, guadagno punti esperienza, guadagno soldi, pian piano vado avanti, pian piano tutto vende a sé. Infatti ora, in questo mondo, che io ho visto poco, ad esempio, entrare qua dentro non mi viene neanche in mente, chissà cosa c'è dentro, ma giochicchiando qua e là, facendo livelli, trovando oggetti, facendo le quest, diventerò sicuramente più forte e mi verrà voglia di andare qui e lì troverò ulteriori oggetti perché sarò più forte, riuscirò a uccidere i nemici, diventerò ancora più forte, fino ad arrivare alla fine del gioco, quando, si spera, sarò potentissimo e non avrò più paura di nulla e mi faranno ridere quei nemici che ad inizio gioco mi mettevano in difficoltà, dovevo passare magari un 30, 40, 50 secondi schivando i loro colpi e cercando di non morire, cercando appunto di portare la loro vita, la loro barra della vita alla fine. Ecco, poi, se il vostro dubbio è requisiti, ecco, diciamo, finali, se il vostro dubbio era mi sembra un po' impreciso, un po' macchinoso, vi dico che giocando passa e io l'ho, mi è bastata un'ora, un'ora per digerire il sistema e non soffrire più tanto. Avrò sofferto molto in live, però devo dire che è godibile. E il gioco è adatto a voi se cercate un gioco di ruolo, un gioco di ruolo che vi offre un ottimo sistema di progressione e secondo me offre anche più progressione rispetto a un The Witcher 3, questo titolo, assolutamente. Quindi se cercate, magari vi siete riavvicinati a The Witcher, come me, a seguito della grossa patch che hanno fatto ultimamente, ma alla fine non vi va di giocarlo, l'avete già finito, volete buttarvi su altro, insomma questo gioco ormai non costa tantissimo prenderlo, vabbè, su Steam, un prezzo pieno, ancora abbastanza altino, ma potrebbe anche valirli. Li trovate magari a meno su Instant usando il link qua sotto se vi va di aiutare il canale. Adesso noi stiamo esplorando, stiamo facendo due chiacchiere, magari ci potremo fare anche una live prossimamente, cercando di andare un pochino avanti, però intanto qui sto trovando delle zone e non so neanche dove sto andando, perché sto andando, sì, qua c'ero già stato, ma non avevo mai lootato questa zona qui. Poi vedete gli oggetti, gli oggetti li vedete, ok, all'inizio rimanda un pochino così fuori di testa il fatto che non riuscite a targettarli, vi abituate, vi abituate assolutamente e imparerete come prendere il gioco. Adesso, io vedo che quello lì non ha un teschio sulla testa, quindi magari me lo posso anche affrontare. Lui poi ha la sua stamina, noi vediamo la nostra e anche la sua. Adesso io mi sono un po' stancato, però aspetto quel secondino. Vedete, adesso gli do il colpo forte tenendo premuto e l'ho ucciso. Mi sono preso 50 punti esperienza uccidendolo. L'ho loot, mi prendo anche due corni che venderò poi per far soldi. Calcolate che le missioni minori gli danno 200 punti esperienza, quindi l'entrata è stata assolutamente buona. L'inventario, da quello che ho capito, perché già me lo chiedevate in live e io vi avevo risposto senza saperlo. E sì, è illimitato, quindi potete prendere tutto. Ovvio, il gioco non è realistico, cioè non punta ad essere una simulazione realistica come può essere un Kingdom Come Deliverance. Perché? Perché potete usare i teletrasporti quando li sbloccate, vi spostate. Ma è un gioco, non è un simulatore. È un gioco che vi dà questa possibilità. Usatela. lì in fondo, cosa c'è? Io salvo, F5. Lì in fondo, vedete che c'è un vagone, mi piacerebbe andare a vedere che cosa c'è. Ma, quella, quello lì, quel volatile, potrebbe essere un problema, anzi, aspetta, fatemi vedere, c'è un sacco di roba. Ho preso anche un vecchio kit medico, due vecchi kit medici. Sta diventando buio, secondo me di notte arrivano anche mostri abbastanza forti, purtroppo. Anche qui, no, riesco bene a targettarlo, va bene, ma credetemi, anche giocare a Dragon's Dog, ma non l'ho trovato proprio così fluido, nel targeting dei nemici, quindi, ecco, voglio solo rassicurarvi e mi rivolgo a chi di voi, appunto, sta cercando un bel gioco da giocare, un bel gioco di ruolo che lo tenga impegnato, magari in attesa, appunto, come vi ho detto, di altri giochi che usciranno prossimamente, Elex, potrebbe, potrebbe davvero valerne la pena. Vedete, in questo caso è abbastanza macchinosa la cosa, ma ci prendete la mano, ci prendete davvero la mano, ci prendete le misure e imparate a muovervi. Intanto, io ho lutato la zona qui, non credo di averla lutata del tutto, perché sicuramente c'è ancora qualcosa e il fatto che sia notte non aiuta, ma in compenso possiamo decidere di tornare al nostro bastione col teleporta e buttarci in un letto e dormire e quindi far passare la giornata, dormiamo sul divano e possiamo decidere di dormire fino alla mattina. Anche la quantità di suoni che ci sono anche adesso che ci siamo seduti ha fatto il rumore proprio del cuscino schiacciato, è veramente della plastica schiacciata, della pelle schiacciata, ecco, è veramente ben fatto. Ecco il letto noi qua. Vedete, dormiamo fino al mattino, guardate come cambia a livello di illuminazione, perché erano partiti di giorno, è diventata notte, tanto si vede qualcosina fuori. è tutto appannato qua. Ok, è qua fuori, guardate che bellissimo panorama che c'è fuori. E niente, io spero di avervi fatto cosa gradita di avervi aggiornato, di avervi magari rassicurato sulla bontà di questo gioco. Ogni tanto lo faccio, ogni tanto ritiro fuori qualcosa che magari sto giocando e di cui mi va di parlarvi. Qua sopra credo ci sia anche la casa nostra, adesso so che si possono aggiornare le location, non so ancora come. Scrinio vuoto, possiamo riporre la roba all'interno, ma non ha senso, dato che al momento, appunto come vi ho detto, da quello che so, io sto prendendo tutto senza limiti di peso, ma ci sta, come ho detto, non è un gioco che punta al realismo. Qua ci sono i tavoli, dove potete andare a lavorare, il crafting, si dividono per tavoli, per munizioni, in cavi cucina, alchimia, creazione di armi, insomma, impostazione del jetpack, eccola qua, ve l'ho fatta vedere, carburante, serbatorio aggiuntivo, per volare più i retro razzi, i retro razzi, tra l'altro mi sa che dovrei pure averli, qualcosina, stazionario, quindi la possibilità di fluttuare sul posto e usare le armi, e questo ci cambierà notevolmente il gameplay. Sono tutte cose che al momento, per come sono messo io, mi sembrano totalmente lontanissime da raggiungere, ma con dedizione, con calma, senza fretta, diciamo che le raggiungerò. Ora, questo tizio qui a voi non dice niente, Asgard, io so benissimo chi è, anche se ho iniziato da poche ore, e so benissimo anche chi è Dex. Ora, non vi dico nulla, però sappiate che appunto crea questa empatia con alcuni personaggi. Fatemi sapere, sono ben aperto a un vostro parere, a un vostro commento, vi invito a lasciarlo qua sotto nei commenti per dirmi che cosa ne pensate, lo avete giocato, vi era piaciuto già dopo la prima like che avevo fatto, magari l'avevate visto, non vi era piaciuto, avete cambiato idea, siete ancora della vostra idea, ditemi un po', dai, sono veramente curioso di sapere che cosa ne pensate. Alla prossima e ciao, ciao. Alla prossima e ciao.